Siamo quasi ad un anno dal grande attentato che ci ha portato tante vittime, anche italiane. Abbiamo pensato con la Tunisia di fare questo lavoro di pace, questo lavoro attraverso la musica, usando l'unico linguaggio che riesco ad usare che è la musica. Il prossimo sabato 12 marzo in piazza del Plebiscito ed in caso di pioggia nella chiesa di San Francesco di Paola si terrà il concerto Mediterraneo Tante Culture, Napoli una musica di pace. Parte di un più ampio progetto per promuovere la pace del dialogo tra i popoli del Mediterraneo attraverso la musica. L'edizione precedente si è tenuta a Casablanca lo scorso agosto con la partecipazione di musicisti napoletani e marocchini ed il patrocinio morale del Comune di Napoli. Ora nell'edizione napoletana sul palco si alterneranno musicisti napoletani, francesi e tunisini e come ospiti d'onore i rappresentanti dei premi Nobel tunisini per la pace e l'ambasciatore tunisino in Italia. Avremo strumentisti anche con la UD, avremo la Darbuka che sono strumenti tipici della Tunisia di tutta l'area del Mediterraneo, poi avremo una sezione ritmica, avremo una violinista francese che lavora con il maestro e lavora con me. Io ho lavorato con il maestro, già una produzione molto importante su Federico II di Svevia, qui siamo a Napoli è il caso di dirlo. È sempre bene ribadire come la musica sia un linguaggio universale che unisce la parola unione, integrazione. In una città come Napoli, io sono napoletano, che Napoli è simbolo di accoglienza al numero di più stranieri che vivono in città perfettamente integrati. Noi siamo molto vicini alla Tunisia, avremo qui i rappresentanti del quartetto, queste organizzazioni che sul dialogo hanno impedito che appunto quel paese precipitasse nel caos e nella guerra civile, è uno dei pochi paesi in cui la primavera araba in qualche modo riesce a dare i suoi frutti democratici e quindi per noi è un dovere sostenere, aiutare e mobilitare le coscienze di tutti i cittadini del nostro paese, ma anche di tutta Europa perché ci sia una massima vicinanza a questo popolo in un momento così difficile, così teso, carico di tensioni anche in queste ore e sono veramente felice e orgoglioso che Napoli svolga una funzione molto importante in questo senso.